Il tiro a San Martino è andato a diritto, picchiato nei matrassi, all'espadino a Vincuda. Buonasera e bentornati ad Aspettando il Palio. Penultima puntata perché ormai con l'estrazione delle 4 contrade che sono andate a completare il lotto delle 10 che saranno al Canape per il Palio del 2 luglio, il Palio è entrato nel vivo. Non c'è più da aspettarlo, c'è solo da farlo a questo punto. Dirigenti scatenati, ormai tutti quanti alla ricerca del migliore accordo con i Fantini e si stanno cercando gli ultimi accordi anche tra contrade perché ci sono delle belle accoppiate di avversari e quindi si cercherà in qualche modo di parare il colpo, come si dice. Ma andiamo a sentire sull'estrazione a sorte il servizio di Veronica Costa. Aquila, Tartuca, Giraffa e Bruco. Queste le 4 contrade che la sorte ha scelto per chiudere il lotto delle 10 che correranno il Palio di Provenzano. Le contrade estratte vanno ad aggiungersi alle 6 che già correvano d'obbligo. Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta e Selva. La piazza è gremita di gente, sembrava di essere già ai giorni di Palio per la prova generale, afferma il sindaco Bruno Valentini, quando le chiarine suonano e il silenzio cala sulla piazza. La prima contrada ad uscire a sorte è l'Aquila, che viene estratta dalla Torre. La contrada di Capitano Lorenzini non veniva estratta a luglio dal 2007 ed è nonna, non vincendo il Palio dal 1992. La Pantera non è più sola, afferma il Capitano, ma penso prima alla mia contrada. Seconda ad uscire a sorte è la Tartuca, estratta dall'Onda, che correrà così il quinto Palio consecutivo. Grande l'emozione del Capitano Gianni Cortecci, che ha ricordato il Babbo Angelo, da poco scomparso, mentre i suoi contradaioli sono corsi a congratularsi. La sorte ha poi scelto la contrada della Giraffa, estratta dalla Selva, che non usciva a sorte dal luglio del 2004. La Giraffa è anche la contrada che ha vinto più pali con estrazioni anomale, ben quattro pali in dodici estrazioni dal dopoguerra ad oggi. Grande gioia per il Capitano Emanuele Tondi, che è stato subito circondato dai Giraffini. Il Capitano ha voluto ricordare i due capitani plurivittoriosi recentemente scomparsi, Romano Rossi e Fabio Caselli. È un'estrazione fortemente voluta, afferma Tondi, dopo la sfortuna dell'anno scorso e soprattutto per la scomparsa i due contradaioli ed ex capitani. In questo momento mi sento sostenuto da loro. Quattro contrade estratte a sorte per la squalifica del Val di Montoni, quindi un posto in più per le contrade che non corrivano d'obbligo la carriera. Il decimo posto per la contrada del Bruco, estratta proprio dal Capitano del Bruco, Simone Manganelli. Grande l'emozione per il Capitano, che ha la sua prima esperienza nella sala comunale, si estrae a sorte da solo. Stessa cosa successa nel 2005. Anche quella volta, quattro le contrade da estrarre e la decima fu proprio il Bruco, che si estrasse da solo. Fu poi il Bruco a vincere quella carriera. La squadra è pronta, afferma Manganelli. Dobbiamo continuare con la massima determinazione ed umiltà, caratteristiche che ci devono sempre contraddistinguere. Proprio il Bruco e la Tartuca si confermano le contrade più fortunate del terzo millennio, con rispettivamente 11 e 12 estrazioni, di cui per entrambe 5 per il palio di luglio. Fortunata a luglio anche l'Aquila con 5 estrazioni, la giraffa sale a 3. Il lotto dei 10 è quindi completo. Tre le coppie di nemiche, con Aquila Pantera, Civetta Leocorno e Onda Torre. Abbiamo parlato di contradi e dobbiamo parlare in tutti i modi di cavalli, perché è il momento in cui i cavalli hanno tutta l'attenzione degli addetti ai lavori, perché la composizione del lotto sarà importantissima. Ci sarà preziosa Penelope. Quali sono le condizioni perché questo cavallo venga preso? Vorranno i capitani che preziosa Penelope possa fare la differenza e non l'otto? Chi è disposto a rischiare e chi no? A dire la verità a tutti quanti i capitani così, per dire, dicono che vogliono l'otto migliore, però qualche dubbio c'è. Anche perché l'incognita Oppio, che però sembra non sia più un'incognita, visto che il sindaco ha detto che non vorrebbe fare delle eccezioni, l'assenza di Oppio quindi potrebbe davvero far decidere per l'assenza anche di preziosa Penelope. Ma sui cavalli andiamo a sentire il servizio di Simona Sassetti. Senza considerare i quattro anni dei 128 cavalli in età per correre il Palio, adesso ne rimangono disponibili 89, dei quali 35 devono finire il percorso. 52 hanno finito e Oppio e Rombo dei Sedini hanno la situazione particolare di non aver effettuato l'ultimo Monticiano per problemi veterinari. Il sindaco Bruno Valentini è poco propenso a transigere, ma la parola dovrebbe passare ai veterinari. Dei cavalli che hanno già percorso il Palio, nove hanno già finito il percorso e sette devono ancora completarlo. Tra questi nomi importanti, Osama Bin, Patos de Ozieri, Ondina I, Raktus, Arbane e Smeraldo Nulese, che dovranno essere presenti il prossimo 6 giugno a Mosciano. Una nuova scrematura sui cavalli che potranno arrivare alla scelta dei capitani sarà fatta escludendo i 15 soggetti che non hanno ancora mai effettuato le prove di notte dopo gli addestramenti del 6 giugno. Se la commissione veterinale non dirisporrà una nuova giornata di addestramenti a Mosciano, l'appuntamento sarà il 23 e 24 giugno e forse il 25 per le previsite. Tra le novità di questo Palio, che poi non è una novità perché ci sarebbe stata anche negli altri anni, è la multa da 500 Euro per i proprietari che permetteranno il cambio di monta durante le prove regolamentate, le prove della notte. Questa è una novità, ma il divieto c'era già, soltanto che non veniva assolutamente tenuto conto e quindi adesso è stata introdotta questa sanzione, sperando che si elimini una brutta abitudine che creava anche molto pericolo in pista per le prove di notte. Certo, non potremo vedere alcuni nuovi fantini perché il proprietario dovrà decidere se farlo provare al fantino quello più importante o poter investire su un fantino che casomai è giovane e nuovo. Quindi qualche cosa andiamo a perdere, però in effetti il pericolo era troppo. Allora continuiamo, andiamo avanti, andiamo avanti con le nostre rubriche, sono stati baciati dalla fortuna e quindi adesso sono ben soddisfatti di preparare questo Palio. Sono i capitani che sono stati estratti a sorte. Marco Cozzini ne è andato a trovare due per la sua rubrica. Dieci domande al capitano. Oggi per la rubrica dei capitani siamo venuti a trovare Capitan Cortecci che ti ringrazio per averci nuovamente ospitato. È un onore vedervi perché è segno buono. È sicuramente segno buono perché ovviamente dopo l'estrazione di domenica la Fertuca sarà nuovamente protagonista sul Tufo. Per questo Capitano ti chiedo ovviamente il tuo stato d'animo, del tuo staff, del tuo popolo. Come vi avvicinate a questo punto, a questo Palio di Luglio? Diciamo che già l'atmosfera era abbastanza calda perché siamo vicini alla festa titolare e dopo l'evento di domenica, l'estrazione di domenica, c'è ancora più euforia e speriamo di divertirsi. Capitano, una curiosità parlando sempre di staff Palio. Quali sono i criteri con i quali un capitano, in questo caso te, sceglie il proprio staff? Penso esperienza, competenza, amicizia? Guarda, io penso sia un mix di tutte le cose che ha detto te. Soprattutto pensare anche a qualcuno che abbia anche la forza per dirti le cose quando pensa che il capitano possa sbagliare. E questo all'interno del nostro staff succede. E poi cercare di preparare qualcuno, quando arriverà la fine del nostro mandato, di lasciare in eredità alla contrada qualcosa per il futuro. E quindi sicuramente una cosa futuristica e questo è abbastanza giusto. Capitano, parliamo anche un po' di cavalli, come l'anno scorso ti ricordi ti feci una domanda simile, ma i numeri sono sempre molto importanti. Anche quest'anno d'inverno 151 gli iscritti alle previsite, 128 quelli del protocollo. Quindi sembra che almeno per ora la passione per la nostra festa va oltre alla crisi che ha colpito l'Ippica. Giusto, giusto. Diciamo che i senesi, i cavalli ci sorprendono sempre a Siena. Quello che dico è che forse si meriterebbero un premio ancora maggiore, anche se ho visto che il Comune ha fatto uno sforzo. Però mi rendo conto che in altri pali invece quando vengono scelti i soggetti c'è un riconoscimento ancora maggiore. E poi speriamo che nonostante questi grandi numeri arrivare in fondo e poter scegliere su un numero importante. Perché l'anno scorso non mi ti raccontavi, sarebbe in fondo e si scelse sul numero esiguo. Se non ricordo male, 13 soggetti. Sì, quello poi ovviamente è il proseguo del protocollo. Sì, speriamo che almeno quest'anno il numero per le batterie sia più ampio. Apposta per questo ti chiedo anche, appunto per il protocollo, le piste di Mociano e Monticiano. Cioè, sono davvero importanti soprattutto per voi addetti a lavori? Proprio per arrivare sia a determinare se un fantino è preparato o meno, ma anche e soprattutto per determinare l'otto dei dieci. Bravissimo. Infatti, soprattutto Mociano direi, io lo reputo fondamentale. Anche se poi la piazza è un'altra cosa. Le batterie, le prove di notte forse sono quelle che più di tutti ci danno, diciamo, l'indicazione per poter arrivare a un lotto idoneo. Però, sia Mociano che Monticiano diciamo che sono importanti e vanno tutelate in tutti i modi. Capitano, un'altra curiosità e un'ultima domandina sul mondo dei cavalli. La tua politica, la politica della tartuja per questo palio di luglio sarà per un lotto alto, quindi si cercherà di avere dentro tutti i bomboloni, come ci piace chiamarli a Siena, oppure un lotto un po' più livellato fra esperti e nuovi? Se fosse possibile un lotto con i bomboloni, come dici te, perché perlomeno poi, può anche succedere, uno perde, ma il popolo si gode quattro giorni e passa quattro giorni veramente di euforia. Beh, certo, su questo sono perfettamente d'accordo. Cambiamo argomento, parliamo anche un po' di Fantini perché se no sono gelosi, non si può parlare solo di cavalli. Ti faccio due domandine, una sui giovani, i giovani che si sono affacciati già dall'anno scorso, ma anche quest'anno abbiamo visto una provincia molto intensa e quindi ti chiedo se la tartuja ha messo gli occhi su qualcuno di loro e la classica domanda se fra i più esperti o i big la tartuja ha qualche punto di riferimento. Allora, i giovani credo che veramente oggi arrivano tutti preparati, sono dei professionisti e ci sono più di uno che si meriterebbero, perlomeno una chance. Come sai, come ti dico sempre, purtroppo quando si arriva in fondo i posti, sono quelli, sono dieci, non è facile, però con gli incastri giusti ci sta che qualcuno possa avere la fortuna di esordire. Se non arriva al palio, perlomeno una prova, già potrebbe essere qualcosa. Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, la tartuja sicuramente ha coltivato rapporti, come sempre, con quelli che reputa possibili, però sappiamo di avere a che fare anche con un'avversaria tosta e speriamo di arrivare in fondo e poter fare, come tutti i miei colleghi, di scegliere la coppiata migliore in base al cavallo che ci viene assegnato. Cambio un attimo argomento, capitano, parliamo anche del mossiere, Fabio Magni, l'anno scorso, la sua prima esperienza, riconfermato da voi capitani, quindi immagino che siete soddisfatti del suo operato. Direi proprio di sì, perché non è facile tutti gli anni cambiare. Lui, penso, è entrato con umiltà, nel modo giusto, addirittura il primo anno ha anche ascoltato, no i consigli, perché non siamo a un grado, ma i suggerimenti dei capitani e devo dire che mi sembra che tutto sommato non ha servicato a nessuno. Capitano, ancora una domandina di attualità, anche se poi di attualità proprio non è, e ti chiedo un tuo pensiero sugli ultimi attacchi che, mi riferisco principalmente agli animalisti, hanno fatto alla nostra festa, quindi se ci può essere o meno una soluzione a questo, anche se personalmente la vedo difficile, però ti chiedo quindi un tuo pensiero e anche una tua riflessione su come l'ingerenza, diciamo, della giustizia ordinaria può cambiare le nostre tradizioni. Io credo che il Palio purtroppo ha una risonanza mondiale, a volte per forza di cose siamo con gli occhi addosso di tutto il mondo, però credo che anche come istituzioni dovrebbero avere la forza per rispondere in maniera più forte a questi attacchi esterni. È un problema, però, ben o male, come ti dicevo prima, se ci sono è perché questa festa è intoccabile e soprattutto immortale. E questo è una verità e sono anche qui perfettamente d'accordo con te, Capitano. Un'ultimissima domanda e poi ti libero della tua disponibilità. Fare il Capitano, sono più oneri o onori? No, onori, onori. Il Capitano è il sogno, penso, di tutti contro Adaioli, però devo dire che quando ci sei ti rendi conto che è veramente una soddisfazione enorme. Io spero che questa soddisfazione possa essere provata da tanti miei amici contro Adaioli. E poi l'importante è di riuscire a farlo al massimo delle possibilità. Poi uno può anche sbagliare, ma se è sereno e pensa di aver agito sempre mettendo prima il bene della contrada davanti agli interessi di tutto, poi ci vuole la fortuna. Comunque, ripeto, è un grande onore. Per la rubrica dei Capitani oggi sono venuto a ritrovare nuovamente Capitano Lorenzini perché domenica è stato il primo atto ufficiale del Palio di Luglio e vedrà l'Apila protagonista sul Tufo. Per questo, Capitano, ti chiedo a questo punto come vi immagino, ma ti chiedo come vi avvicinerete a questo Palio, te, il tuo staff e il tuo popolo. Per fortuna sì, domenica è andata molto bene. Ci avviciniamo come abbiamo sempre fatto in questi anni, anche perché è evidente che non è che abbiamo aspettato, come tutti del resto, l'estrazione per vedere quando è il caso di iniziare a lavorare. Certo è che adesso consolideremo tutti i ragionamenti portati avanti durante l'inverno. Senti, Capitano, una curiosità, sempre parlando di staff Palio e appunto del lavoro che giustamente si fa durante l'anno indipendentemente dal sapere se si esce o meno. Con quali criteri un Capitano sceglie il proprio staff Palio? Penso a esperienza, per non dire amicizia, per non dire competenza. Io credo che sia necessario avere un insieme di cose, ovviamente. È fondamentale avere, specialmente in alcuni ruoli, non mi riferisco in particolare a Mangini, ma specialmente ai ruoli più tecnici della stalla, per esempio. avere, è evidente, della gente che sappia lavorare e accudire un cavallo. Per il resto è evidente che deve essere anche un rapporto di intesa totale e quello poi magari si può anche affinare nel tempo. Però è chiaro che c'è un rapporto, poi già ci sono dei presupposti di vicinanza, di stessi ragionamenti e poi piano piano, stando sempre assieme, si portifiamo. I rapporti, sicuramente. Capitano, parliamo anche un po' di cavalli, di protocollo, anche quest'anno numeri per fortuna importanti. Sono stati 151 gli iscritti alle previsite invernali, ben 128 quelli al protocollo. Diciamo che nonostante, come si disse anche già l'anno scorso, la grande crisi che ha colpito comunque il mondo dell'Ippica in generale, sembra che per ora la passione per la nostra festa vada oltre questa crisi. Sì, mi sembra evidente, nel senso al momento in cui non ci sono più dei contributi o quant'altro e i numeri sono questi, vuol dire che veramente, ecco, questa è una grande risposta, qui c'è veramente la passione. Perché non ci può essere altro se non la soddisfazione di vedere il proprio cavallo partecipare al Palio. Per quanto riguarda invece il protocollo puro, credi che siano veramente importanti le piste di Mociano e Monticiano? Mi riferisco principalmente a voi addetti a lavori, quindi capitani, comunque veterinari, per capire sia il grado di preparazione dei fantini, ma anche e soprattutto per arrivare a determinare il lotto dei dieci. Guarda, io credo che siano molto importanti i lavori come addestramento. Poi, per quanto riguarda la nostra scelta, io ritengo che secondo me un cavallo, come lo vedi in piazza, non lo vedi da nessuna parte, però, ripeto, sono strutture e è un lavoro che viene portato avanti e che è molto utile per la preparazione dei cavalli. Capitano, un'ultimissima domanda sui cavalli. La tua politica, la politica dell'Aquila per questo palio avvenire, è per un lotto alto, quindi, come si dice a Siena, con tutti i bomboloni dentro, o un lotto un po' più livellato fra esperti e nuovi? Io personalmente ho sempre sostenuto che un palio con i migliori cavalli è più bello, primo, perché al momento dell'estrazione è più bello vedere dei propri gioire. Ci dà, secondo me, dei vantaggi a noi un po' più profani rispetto ai fantini, perché se non altro riesci a capire meglio quali sono le scalettature o hai comunque dei punti di riferimento, vero è che è necessario comunque trovare un giusto mix, nel senso che sarebbe ideale tutte le volte riuscire a introdurre qualche esordiente, comunque portare avanti un pacco di cavalli il più ampio possibile. Parliamo anche un po' di fantini, ti faccio due domandine, una sui giovani, giovani che già l'anno scorso si erano affacciati sia al protocollo che al palio, ma anche quest'anno li abbiamo visti intensamente partecipare a questa provincia invernale, quindi ti chiedo se l'Avila ha messo gli occhi, fra virgolette, su qualche uno di loro e se fra i più esperti o i big avete uno o più punti di riferimento. Guarda, allora, se partiamo dai big ovviamente io gradirei ripartire da dove ci siamo lasciati, quindi è innegabile che TTI ha il nostro fantino di riferimento, questo non vuol dire che l'Avila non sia aperta a qualsiasi tipo di soluzione, non abbiamo alcuna precisione in fronte di nessuno, però è innegabile che un rapporto con TTI c'è che va avanti da qualche anno, quindi è evidente che ripartiamo da lui. Sui giovani, devo dire, io qualche cosa ho visto di ragazzi che sono riusciti anche a far maturare dei cavalli, di fare un buon lavoro, secondo me ce ne sono, però ti dico, ecco, noi ripartiamo da lì, ovviamente. Non mi sembra poco. Non vorremmo fare degli esperimenti, però ecco. Parliamo anche del mossiere, Fabio Magli l'anno scorso, prima esperienza, quest'anno riconfermato da voi capitani, quindi immagino che siete soddisfatti, ecco. Sì, assolutamente, abbiamo fatto un rapido passaggio con tutti i miei colleghi, e devo dire che sono state riconosciute delle buone qualità al nuovo mossiere e poi può succedere che tutti, tutti, tutti in una mossa non si accontentano, quindi, vabbè, mi riferisco, insomma, a scorso anno d'agosto, per noi poteva essere forse un po' meglio, ma comunque va bene, le qualità ce l'ha e le ha dimostrate, quindi benvenga il ritorno del signor Magli. Una domandina un pochino più di, diciamo, attualità sulla nostra festa. Ti chiedo sia un tuo pensiero su questi attacchi da parte degli animalisti, che sono stati, ci sono da sempre, ecco, diciamo, la verità, però pare che ultimamente questi attacchi sono arrivati fino a fare una manifestazione a Siena, quindi, diciamo, ecco, un tuo pensiero, se ci può essere una soluzione o meno a questa cosa, e anche una tua riflessione su come la giustizia ordinaria possa, in qualche maniera, intaccare la nostra tradizione. Allora, io credo che, purtroppo, questo è un po' un segno dei tempi, nel senso, prima tu potevi circoscrivere un po' tutte le cose nell'ambito senese, nel momento in cui tu hai degli strumenti che non puoi in nessun modo, ma non ti dico controllare perché non sarebbe nemmeno giusto, però hai una risonanza più grande, no? Tu hai qualsiasi persona, sia in palco, prende il tuo telefonino, fa un filmato, le butta online e tutti vedono, o possono anche far vedere quello che le fa più comune far vedere, quindi questo, secondo me, è un problema che non ha soluzione, nel senso, è così, sarebbe bello, magari, che almeno la gente di Sena, ecco, da questo punto di vista, fosse un po' più cauta nel far circolare alcune immagini. Per quanto riguarda la giustizia, lì sta sempre molto un po' anche alla sensibilità di chi gestisce queste cose, forse di dare un'interpretazione forse più corretta di quello che è Siena. Non si possono paragonare, insomma, gli scontri tra ultra e dei momenti di tensione che possano accadere nei quattro giorni, perché ad un osservatore esterno può anche capitare di metterli sullo stesso piano. Ovviamente chi ha la sensibilità deve comprendere, nei limiti ovviamente, finché non si eccede o si trascende, insomma, ecco, è una cosa un po' diverso. Capitano, un'ultimissima domanda e poi ti liberiamo. Fare il capitano, sono più oneri o onori? Sicuramente più onori, perché, insomma, nessuno te lo ordina. È impegnativo, è faticoso, però sei ripagato, insomma, ecco, da tante... Non dico dalla vittoria, questo è evidente, ma anche dall'affetto, insomma, anche da delle giornate come domenica stessa, fa piacere, insomma, ecco, quindi, bella soddisfazione. Ringraziamo Marco Antonio Lorenzini, capitano dell'Aquila. E se i capitani sono in fermento, non sono da meno i fantini. A parte i big che hanno il problema dei troppi appuntamenti perché tutti li vogliono, perché succede anche questo, ci sono una serie di fantini che invece aspettano una chiamata e che in questo momento cercano di tessere anche loro più rapporti possibili. Uno di questi è andato a trovarlo Gabriele Voltolini nella sua rubrica A tu per tu con... A tu per tu con... questa mattina siamo con Antonio Siri detto Amsicora che ha corso proprio domenica al Padre di Legnano. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi. Qui dietro abbiamo Tabacco che ci guarda e ci ascolta. Dunque, partiamo da un po' lontano, nel senso, come è stato il tuo percorso a Siena, nel senso, quando sei arrivato, come mai sei arrivato, i motivi, insomma, raccontaci un po' l'inizio. L'inizio a Siena sono arrivato nel 2007 da Massimo Okoge, lavoravo a Pisa dal 2003 al 2007 e nel frattempo comunque il pallio era sempre un pallino, dai. Un sogno che vedevi da lontano, magari dalla Sardegna, come lo vedevi il pallio di Siena, era proprio un punto di arrivo? Come lo vedevo affascinante sicuramente, affascinante per un ragazzo della Sardegna che comunque ha la passione per i cavalli, penso che sia un apice, dai. Primi anni a Siena e si inizia a prendere confidenza, no? Un po' con il gioco del pallio perché all'inizio comunque non è semplice capire un po' i meccanismi. Sì, è un po' tutto, dai, i meccanismi in primis, ma anche comunque sia l'allenamento a pelo, dai, è tutto un altro allenamento, tutto un altro assetto rispetto, comunque lavoravo a Pisa, a Sella, è tutto un altro tipo di monta. Poi nel 2010 la prima avventura in piazza, l'esordio, che ricordi hai e com'è stato l'esordio? Partiamo che comunque dal 2007 ho fatto la gavetta, ho fatto tutti i pali fuori, tante tratte, fino ad arrivare al 2010 che è stato un anno bellissimo, ho vinto vincendo il palio a Legnano e poi ho avuto la possibilità di esordire nella torre. Com'è stato? È stato un sogno che si avverava? Da lì poi è cominciato il tuo percorso in piazza del campo, comunque avevi fatto vedere tante cose anche in provincia, comunque nei pali non a Siena e sono arrivate altre opportunità, no? A parte il 2012, il 2013, un palio che non hai potuto correre per un infortunio al cavallo, comunque un buon percorso, no? Sì, insomma, poteva essere parecchio meglio, comunque è stato un percorso un po' altalenante, mi sono stati fatti pagare troppo cari certi errori, gli errori li ho commessi, non mica dico che sono stato condannato a caso sicuramente, però magari sono stato condannato un po' troppo forse. 2014, ultimo palio, corso in piazza fino a questo momento, ti sei dato una spiegazione del perché di questa assenza in piazza da un paio d'anni ormai? Te lo dicevo prima, forse è stato condannato un pochino troppo, comunque non demordo, non sta a me scegliere, Antonio è pronto, è motivato, sicuro delle sue potenzialità e speriamo io mi venga dato un'altra possibilità per dimostrare che in piazza, magari nella situazione un pochino giusta, che in piazza ci posso stare anche io. In tanti dopo qualche anno di assenza si sono anche un po' riciclati, perché magari qualcuno ha preso un po' il ruolo non di killer ma comunque per fermare l'avversario, sono stati chiamati per fare dei compiti magari diversi, te saresti pronto a fare una cosa del genere oppure no? Io assolutamente, io sono un fantino, penso a 360 gradi, qualsiasi tipo di pali ci sia da fare, qualsiasi ordine venga dato dalla contrada penso di essere in grado di rispettarlo. Anche perché insomma intorno a Siena sei molto apprezzato, perché comunque monti da tutte le parti, hai fatto il palio di Legnano da poco, correrai ad asti, tanti pali, quindi insomma un bel riconoscimento per te no? Sì assolutamente, però Siena mi manca. Ti manca, partiamo con un passettino alla volta, parliamo della tratta, perché la tratta hai dei cavalli importanti, comunque qui in scuderia, raccontaci un po' quali sono e chi porterai per la tratta. Sì sono Sogni, Tabacco, Sarbana e Resolza. Quindi quattro soggetti abbastanza importanti no? Sì, sì sono quattro soggetti importanti. Negli anni scorsi tra l'altro sei salito alla ribalta perché comunque hai preparato dei cavalli, dei gran cavalli dal palio, ci ricordiamo di Quitgold che comunque ha fatto, è stato un po' sfortunato però era veramente un gran cavallo. Come nei fantini anche nei cavalli ci vuole la giusta dose di fortuna. Adesso il tuo percorso prima del palio cosa prevede, quali sono gli appuntamenti di questo mese? Sarà Castiglione-Fiorentino, poi la tratta e poi la speranza. La speranza di ritrovare un giubbetto, ci sono contatti con i capitani, ormai c'è stata l'estrazione quindi si è completato il quadro delle 10, come va i rapporti con i capitani? Ma sai, diciamo che comunque sia, nonostante non abbia, sia dal 2014 che non monto, comunque l'interesse per Antonio almeno a parole si è stato, però si è concretizzato comunque anche per varie situazioni che magari non sono tornate proprio a mio favore. Comunque l'interesse per Antonio, le contrade vengono, cioè non è che sono stato messo nel dimenticatoio, anzi. Adesso comunque hai superato i 30 anni, hai una maturità diversa da quando sei arrivato, c'è qualcosa che non rifaresti oppure adesso hai la maturità giusta per capire e per essere sicuro di quello che potrai fare in piazza? Beh, sicuramente i chilometri servono a questo, i capelli bianchi, anzi io li ho persi proprio quindi un motivo ci sarà, a parte gli scherzi, i chilometri fatti sicuramente ti aiutano a non ricommettere gli stessi errori, a vedere le cose in un altro modo, cioè tante cose cambiano quindi uno cresce, matura, pensa in un altro modo e quindi la maturità per sé è fondamentale. Antonio Siri, lontano dai cavalli, perché comunque ognuno ha degli aspetti, degli hobby, delle cose che gli piace fare, a te cosa ti piace fare quando non sei ovviamente vicino ai tuoi cavalli? Innanzitutto c'è un lavoro che mi richiede tantissimo tempo, tanto sapete come la vita del Fantino, quando ho quell'ora libera mi piace passare con i bambini. Per concludere un auspicio, un sogno per questa annata paliesca 2017? Che mi rivenga affidato un giubbetto a Siena sicuramente, per dimostrare quello che realmente valgo. Anche questa settimana andiamo indietro nel tempo con la rubrica di Andrea Naldini che va a cercare personaggi che parlano del palio di un tempo ma guardano anche al futuro perché la stalla è sempre la stalla, è sempre un mondo magico. Andiamo a vedere storia di stalla di Andrea Naldini. Grazie Susanna, ancora un'altra puntata con storia di stalla, come potete vedere ci troviamo all'interno della nobile contrada dell'Aquila e ringraziamo anche il priore che ci ha permesso di poter essere qui all'interno della contrada e ringrazio anche accanto a me Ameraldo Bianciardi. Buonasera Ameraldo. Buonasera. Proviso di Ex Barbareschi, ci troviamo davanti a una figura importante che ha visto molto di quello che è stata la storia del palio da quando ha iniziato perché il tuo periodo, ne parlavamo prima, è stato un periodo abbastanza lungo all'interno della stalla. Quanto sei stato e quanto sei rimasto all'interno della stalla? Più o meno un quarto di secolo, con un breve stacco di tre anni dall'80 all'84. L'84 poi mi sembra rientrai. Allora, pali vinti intanto quanti? I pali vinti come Barbaresco quattro, nel 73, nel 79, nell'88 e nel 92. Purtroppo l'ultimo palio che abbiamo vinto. Dal 92, quindi quasi 25 anni diciamo di Barbaresco, lo possiamo dire, hanno circa 25 anni? Sì, perché io poi di fatto mi pare smisi nel 94 o 95, forse nel 95. Allora, chi meglio di te ci può intanto raccontare la contrada da quando ha iniziato a fare il Barbaresco fino agli ultimi anni in cui sei stato protagonista nella stalla? Che cambiamenti ha avuto la contrada? In generale le contrade, il palio? Beh, le contrade ora hanno tutta un'altra dimensione. Quando io ero Barbaresco ai primi anni, mi ricordo quando io ritornavo in succo il cavallo dopo aver fatto il palio, io mi ricordo che c'era una o due persone che mi accompagnavano, ma che trovavo uno al chiasso largo e quell'altro forse lo trovavo al Casin de Nobili. Ecco, per dire un attimino la diversità, non c'era guardia Fantini, sono iniziati dopo. Come sostanza è rimasta la stessa, però indubbiamente è aumentata la gente che ora non c'è più confronto, insomma, ma ora è un'altra dimensione. Il nostro era forse un palio romantico, ora ormai di romantico ci è rimasto poco. Però devo dire, il palio è sempre palio, è sempre bello, per cui bisogna continuare a farlo e anzi, i ragazzi di oggi bisogna riconoscere che si impegnano e è giusto che sia così. E quindi non c'erano guardia Fantini, non c'era tutto quello che è l'organizzazione di oggi per quanto riguarda lo staff della stalla, del palio, ma quindi il Fantino con voi dormiva nella stalla, cosa succedeva nella stalla? Dunque, allora il Fantino non dormiva nella stalla, nella stalla dormiva il Barbaresco e il Vice Barbaresco, quando ce l'aveva, perché non sempre, almeno io, i primi anni non ce l'ho avuto, poi dopo arrivò il Vice Barbaresco che era Roberto Luppoli. Allora, io avevo la stalla ai quattro cantoni, prima di entrare nel vicolo del Vercione, e sopra c'era un appartamento che era di muomi brandolini d'Adda e una stanza la destinava, anzi due camere destinava, una a me e una al Fantino, per cui si dormiva nella stessa casa, uno in una camera, io ero proprio nella camera sopra la stalla in modo che io potessi sentire tutto quello che succedeva sotto, ma devo dire che era una stalla non come quelle che c'è oggi, dove c'è la doccia, dove ci puoi dormire, dove c'è tutto. All'epoca, in quella dove ero io, non c'era nemmeno una finestra, sicché un nostro contradaiolo aveva fatto un sistema di areazione, ma improvvisato, che aspirava un po' di cattivi odori, perché la mattina, quando io andavo a riaprire la stalla per tirare fuori il cavallo, non riuscivo ad andare giù dentro il boss e dal puzzo che c'era. Questo era, all'epoca, le stalle di allora. Ho parlato di cavalli, mi stavi dicendo di cavalli, quindi in tutto questo periodo, se ti faccio il nome di un cavallo, il primo nome che ti viene in mente è che ti è rimasto nel cuore? Urbino, sicuramente il più forte cavallo di quelli che ho avuto e che mi hanno fatto il risultato, perché poi io ho avuto Fiteus, lo ho avuti tutti, sicché è difficile poter fare una gradatoria, ma se devo fare, devo dire, un cavallo che mi ha colpito e che mi ha lasciato il segno, Urbino. Urbino, e aneddoti su Urbino nella stalla, che cosa ti viene in mente? Urbino, ecco, come aneddoti devo dire non troppi, era un cavallo molto esuberante, era un cavallo che bisognava essere molto attenti, stare molto attenti, perché quando questo cavallo usciva dalla stalla ti faceva dei salti incredibili, perché era un cavallo di temperamento, era un cavallo che si vedeva che voleva correre, aveva necessità di correre, sicché bisognava sempre stare molto attenti, perché questo era un cavallo che bisognava tenerlo forte, capito? Invece parlando sempre all'interno della stalla, quando arrivavano i Fantini, si parla di quattro pali vinti, Fantino che ti viene subito in mente? Vabbè, è troppo facile, Andrea De Cortes, anche perché nell'Aquila ha vinto tre pali, nel 65 vinse il primo, poi abbiamo la stessa età, siamo anche amici, per cui, come fa, lui è sicuramente il Fantino prediletto. Dei tre pali vinti con Andrea De Cortes, uno gravitavi nell'orbita della stalla, mentre i due è ribarbaresco, che cosa ti ricordi di questi tre pali? Allora, nel 1965 ci toccò Topolone, però questo cavallo si fece male, ebbe una lacerazione o una gamba, si dovette fargli anche un piccolo intervento, un drenaggio, per cui non si vorreva le prove. Come dicevo prima, a quell'epoca non c'erano quelli che guardavano Fantini, eccetera. E allora io e lui, per passare il tempo, si andava alla fiscina delle quattro perci, si faceva il bagno, si prendeva il sole, verso le sei e mezzo si ritornava in contrada e si guardava la prova. Cosa è impensabile oggi? Oggi impossibile, non impensabile, impossibile. Poi 79 e poi 92? Nel 79 con Urbino si vinse un gran palio, anche quello. Ecco, quello ci fu purtroppo un episodio brutto, perché ci fu il cavallo della civetta che si infortunò, e io quando si arrivò, vi di questo cavallo che... No, non era, forse era nel 92, non mi ricordo. 79, purtroppo c'era il 79. Nel 79, perché si fece male, si ruppe, si snodellò. Ecco, e poi nel 92 fu un palio strepitoso, perché ci fu tutta quella, alla mossa, tutte quelle nerbate fra Deledda e Aceto, e lì fu l'Apoteosi. E devo dire, non a caso io sono amico d'Andrea, perché secondo me, al di là del personaggio che qualche volta fa quello che dice, forse non lo pensa, eccetera. Però mi ricordo, in quell'occasione, dopo che si era vinto il palio, a quell'epoca non usava andare dietro al Fantino, al Duomo o al Provenzano. Io andavo nella stalla, infatti lui mi disse, oh, ci si vede dopo. Lui andava verso il Duomo, io andavo, tanto la stalla era la stessa, e io andavo verso la stalla. Però, voglio dire, a quell'epoca, lui, dopo che era stato al giubilo nel Duomo, ritornò in stalla, fece le fasce al cavallo e poi andò a fare la doccia. Tranquillo, senza il suo problema. Non solo, un altro piccolo aneddoto. C'era un ragazzino che l'aspettava giù in fondo, perché in fondo al casato lui stava in una casa o a giù in fondo al casato a dormire. E questo ragazzino, le avevano detto, e questo Fantino era lì, era un ragazzino purtroppo disabile in una carrozzina. Lui si fermò, lo baciò, gli fece un monte di festa, questo ragazzino tutto entusiasta, e il babbo di questo ragazzino, dopo è passato tanto tempo, perché è 25 anni e non si vince, continuo a mandargli tutti l'anno una bottiglia di vino a questo uomo. Queste sono le cose belle che rimangano anche del Palio, dei Fantini, in maniera particolare lui, Andrea. A livello di emozioni, come ho chiesto anche ad altri tuoi ex colleghi, cosa ti viene in mente invece quando ti trovavi all'interno dell'entrone, quindi il momento prima di uscire, le ultime chiacchiere, gli ultimi discorsi proprio fatti con il Fantino. Allora, quello secondo me dovrebbe essere un momento che dovrebbe capitare a tutti i contradioli, perché è una cosa troppo bella, troppo importante. Rimani te, il Fantino e il Cavallo. Per pochi attimi, ma sono attimi particolari. Qualche volta basta uno sguardo, qualche volta bisogna dare un incitamento, è secondo il momento, però c'è un silenzio, è una cosa... Io augurerei a tutti i senesi di poter provarle queste sensazioni, che sono indescrivibili, non si possono descrivere, ma sono troppo importanti. Quelle ti rimangano per sempre. E invece tu dovessi dare un consiglio a quelli che sono i barbareschi di oggi, barbareschi onnipresenti alle corse, onnipresenti e semiprofessionisti, ormai abbiamo già detto all'inizio la differenza del palio di allora con il palio di oggi, però tu dovessi dare un consiglio e cosa ti senti di dire? Ma sai, purtroppo il palio è cambiato, oggi ci sono tutti questi pali, i barbareschi vanno dietro ai fantini, quelli che pensano che poi possano gravitare nella loro contrada. Io francamente sono andato a vedere pali fuori, pure lo 24, ma no, con questo non è che le giudico e dico che fanno male, anzi, penso che fanno bene, perché se ci vanno significa che sia capitani, mangine, eccetera, gli dicono di farlo, perché se no credo che non ci andrebbero. Il palio è cambiato e bisogna prenderlo come è oggi. Quindi è diverso nella sua diversità, però è cambiato un po' in tutto dal punto di vista di gestione del cavallo. Oggi i fantini, l'abbiamo detto tante volte, sono atleti e gli stessi cavalli sono veramente atleti. Come no, accidenti, oggi i fantini in particolare, ma anche i cavalli, perché oggi i cavalli sono allenati in maniera diversa da come venivano allenati prima, i fantini poi ormai sono veramente atleti. Forse, devo dire però, che qualche fantino che c'era prima forse aveva più un mestiere di quelli che ci sono ora, però indubbiamente sono bravi e sono bravi lo stesso. Bene, allora io ringrazio Ameraldo Bianciardi di questa chiacchierata, grazie. Grazie a voi. E ringrazio anche la nobile contrata dell'Aquila per averci ospitato. Rilancio la linea allo studio a Susanna Guarino. E concludiamo questa penultima puntata del nostro Aspettando il Palio con una bella iniziativa del Comitato degli Amici del Palio che quest'anno ricordiamo festeggia i 70 anni dalla nascita. Andiamo a sentire il servizio realizzato da Simona Sassetti su un'altra bella iniziativa che metteranno in pratica proprio adesso. Il Comitato Amici del Palio con l'aiuto del sostegno dell'Arci Confraternita della Misericordia nell'ambito dei festeggiamenti per il settantesimo anniversario della sua fondazione ha fatto ripulire la tomba del maestro Pietro Formichi opera dello scultore Fulvio Corsini e la targa realizzata dallo stesso comitato nel 1978 celebrante l'autore della Marcia del Palio il Comitato Amici del Palio da sempre a difesa della tradizione senese promotore di manifestazioni che si ispirano ad essa ha curato la memoria del maestro della sua opera fin dalla fondazione nel 1947 già nel 1951 il Comitato si rivolse al Comune del Magistrato delle Contrade per denunciare l'uso improprio di cui era oggetto la Marcia del Palio nei montaggi dei cinegiornali nelle pubblicità o per la promozione di sagre e manifestazioni folkloristiche lungo tutta l'Italia per tutte queste motivazioni mercoledì 7 giugno il Comitato Amici del Palio ricorderà l'anniversario della nascita del maestro recandosi con alcuni suoi rappresentanti presso il cimitero monumentale della Misericordia per depositare un mazzo di fiori sul monumento appena restaurato e con questo anche la penultima lo ripeto penultima puntata perché almeno sarete preparati a non averci più il giovedì con voi di Aspettando il Palio si conclude questa volta non avevamo ospiti ma tantissimi servizi e per questo abbiamo lasciato spazio a tutti coloro che il Palio stanno per farlo una buona serata a tutti la vita è andato a diritto piccata nei matrassi con le spavito addirittura per il palio di Sassi la vita del Palio è andato a diritto di Sassi 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 di Sassi